Le acque degli invasi di Sciaguana, nell'Ennese e il Ragoleto, nei pressi di Gela, nel Nisseno, saranno destinate all'irrigazione di soccorso e agli usi per gli allevamenti. A stabilirlo sono due ordinanze del Commissario per l'Emergenza Idrica in Agricoltura e Zootecnica della Regione Siciliana, Dario Cartabellotta. Nel dettaglio, l'utilizzo delle risorse idriche dell'invaso Sciaguana è destinato all'irrigazione di soccorso delle aree gestite dal Consorzio di Bonifica 6N della Sicilia Orientale, anche per i terreni non associati e per l'utilizzo in zootecnia. Le acque dell'invaso Ragoleto potranno essere utilizzate invece per l'irrigazione di soccorso delle aree servite dal Consorzio di Bonifica 8 della Sicilia Orientale, fino a 9.000 m3 al giorno. La misura è valida per tutto il mese di agosto e potrà essere prolungata anche a settembre, una volta verificata la quantità delle risorse. Per garantire la disponibilità per gli altri usi assicurati dall'invaso, spetterà i rispettivi consorsi di Bonifica, Sicilacque e per quanto riguarda Ragoleto alla biorraffineria di Gela, attivare il monitoraggio dello stato del litio fauna al fine di prevenire condizioni di crisi e avviare ove necessario il trasferimento, oltre a prestare collaborazione e supporto anche di tipo logistico. Intanto Salvatore Barbagallo e Giuseppa Savarino sono i due nuovi assessori del governo regionale. Li ha nominati il presidente della regione Renato Schifani. Barbagallo, professore ordinario di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali all'Università di Catania, prende il posto di Luca San Martino e avrà la delega di assessore all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea. Savarino, invece avvocato e deputato regionale, già presidente della Commissione parlamentare Ambiente dell'Ars, subentra ad Elena Pagana e si occuperà di territorio ambiente. Domani alle 15 è previsto il giuramento al cospetto dell'Assemblea regionale siciliana.